I Carabinieri della Compagnia di Marcianise, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 31 indagati tra le province di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta, responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alle rapine in danno di autotrasportatori e aggravate dal sequestro di persona, porto abusivo di armi da fuoco e ricettazione. Accertati 20 eventi delittuosi è recuperata merce, tra cui farmaci antitumorali e plichi postali, per un valore di oltre 2 milioni, 500 mila di euro. Le investigazioni hanno consentito di stroncare attività illecite che alimentando il mercato parallelo erano idonee a provocare gravi ripercussioni sul piano economico.